A Cireale, razzia, bar e ristoranti nella notte, trovato e denunciato l'autore dai carabinieri. Sono bastati solo pochi giorni ai carabinieri della stazione di A Cireale per identificare e denunciare l'autore dei furti, uno dei quali non andato a buon fine, avvenuti in quel centro ai danni di due bar al centro di Cireale, commessi mercoledì 28 febbraio e di due ristoranti avvenuti la domenica e lunedì precedenti. Un uomo, dopo aver forzato le porte d'ingresso, era riuscito a entrare dapprima in un chioschetto, dove aveva rubato i contanti custodini in cassa, e poi in un bar del centro, dove aveva danneggiato una porta secondaria per entrare, procurando un danno di diverse centinaia di euro, senza però trovare contanti. In entrambi i casi, il reo indossava un giubbotto smanicato rosso e un berretto, utilizzato per nascondersi alle telecamere. Purtroppo per lui, la profonda conoscenza del tessuto criminale del territorio da parte dei carabinieri, unito al dettaglio dei capi di abbigliamento tratto dall'analisi delle immagini di videosorveglianza, hanno incastrato l'uomo, riconosciuto appunto quale autore dei furti sulla scorta delle evidenze hanno trovato a casa sua. Scovato un deposito di droga al villaggio Sant'Agata, con circa un chilogrammo di stupefacente, pregiudicato e arrestato dai carabinieri. I carabinieri del nucleo investigativo di Catania sono stati impegnati in un mirato servizio antidroga nel popoloso quartiere villaggio Sant'Agata, nel corso del quale hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga un 43enne pregiudicato catanese. Le indagini hanno consentito di accettare come il 43enne avesse allestito un florido commercio di stupefacenti nella sua abitazione, sita al terzo piano di una palazzina del popoloso quartiere, dove gli acquirenti sarebbe stato assicurato un variegato assortimento di stupefacente. In particolare, durante le attività info-investigative, sarebbe inoltre stato individuato anche il locale utilizzato quale nascondillo della droga, ovvero un deposito al piano terra del medesimo palazzo. Tutta la droga è stata sequestrata, mentre il 43enne è stato posto a disposizione dell'autorità giudiziaria, che ha convalidato l'arresto disponente per lui la misura cautelare della custioda in carcere. Biancavilla, rissa tra biancavillesi e adraniti. I carabinieri denunciano 8 giovanissimi, 5 addirittura minorenni. I carabinieri della stazione di Biancavilla, al termine di prolungate attività info-investigative, hanno denunciato in stato di libertà 8 ragazzi, di cui 5 minorenni che, in concorso tra loro, lo scorso novembre si sono resi responsabili dei reati di rissa aggravata. Due di loro, inoltre, un 16enne e un 21enne di Edrano, sono stati denunciati anche per porto di armi o ad oggetti atti ad offendere, perché hanno partecipato alla rissa armata di una mazza da baseball e di un bastone di legno. Un call case risolto grazie a una meticolosa e articolata indagine che ha permesso ai militari dell'arma sia di ricostruire le fasi della rissa, sia di identificare i partecipanti alla violenta e prolungata lite consumatasi in zona Casina, ovvero presso i giardinetti di piazza Martiri d'Ungheria del comune di Biancavilla. Sicurezza stradale. La Polizia di Stato ha incontrato gli studenti dell'Istituto Gioecchino Russo di Paternò. L'incontro, promosso nell'ambito di un'assemblea di istituto, è stato fortemente voluto dagli stessi studenti, che hanno dimostrato un particolare interesse per il tema della sicurezza stradale. I poliziotti si sono intrattenuti con gli studenti, concentrantosi sull'importanza del rispetto delle regole e del codice della strada. Questo momento di condivisione ha permesso agli studenti di riflettere sull'importanza di adottare comportamenti responsabili e consapevoli quando si ha al volante, contribuendo così a prevenire gli incidenti e a proteggere la vita di tutti i cittadini. Regione siciliana. Beni culturali. Statue di Diana Cacciatrice sarà restaurata e conservata al Salinas di Palermo. La statua in marmo di Diana Cacciatrice, che abbelliva uno dei viali del Real Parco della Favorita di Palermo, istituito come riserva di caccia dai sovrani borbonici nel 1799, trova casa all'interno del Museo archeologico regionale Antonino Salinas, dove sarà restaurata e custodita. L'opera è stata presentata al pubblico nella sede dei Salinas. Presenti l'assessore regionale e beni culturali, Francesco Paolo Scarpinato, il direttore del Museo Caterina Greco, il comandante militare dell'esercito in Sicilia, generale e divisione Maurizio Scardino, e il capitano di Vascello, Tiziano Garrapa, in rappresentanza del comandante marittimo Sicilia contro ammiraglio Andrea Cottini. Noi, grazie alla mission dei beni culturali, che è ovviamente la tutela, la valorizzazione e la fruizione, abbiamo fatto insieme, in maniera sinergica, con la marina e l'esercito italiano, abbiamo portato qui al Salinas la statua di Diana Cacciatrice. Siamo veramente contenti per il risultato, da quello che è nato, dai rapporti interpersonali e soprattutto sotto il profilo istituzionale, questa sinergia ci ha regalato e ha reso fruibile ai cittadini, ai turisti e alla Sicilia intera, questa statua del secondo secolo dopo Cristo. Noi per il monumento la teniamo qua nel cortile grande, nel chiostro grande, perché sarà restaurata, quindi sarà un recupero di restauro fatto, diciamo, in modo da essere visibile anche ai nostri visitatori. e poi verrà collocata al primo piano, dove già esiste una sezione borbonica, che si riferisce appunto a tutte le donazioni che i sovrani borbonici fecero al Museo di Palermo e al recupero di un'altra statua che stava la favorita, la menade in basalto, che invece fu portata qui al Museo nazionale intorno agli anni 20 o 30 del Novecento. Sì, siamo con il mister Lucarelli. Allora, Lucarelli, analizziamo questo pareggio, 95 minuti tirati contro un avversario che, lo aveva detto lei ieri in conferenza stampa, forse non era il migliore avversario da affrontare adesso. Sì, io l'ho detto perché è 42 anni che sono nel mondo del calcio, quindi so l'insidia delle partite post-infrasettimanali con annessa vittoria e festeggiamenti, quindi sicuramente il Monterosi di un mese fa sarebbe stato un avversario più abbordabile, il Monterosi di oggi è un avversario che sta creando problemi a tutti e anche se noi onestamente oggi abbiamo preso il gol nell'unico tiro in porta che abbiamo subito, di contro non è che ne abbiamo fatti tantissimi, nemmeno noi. E diciamo che oggi è evidente che l'aspetto fisico era il principale nostro problema e poi abbiamo ovviamente come temevamo non siamo riusciti a smaltire né la fatica né l'emozionalità della partita di mercoledì con il Rimini. Nikki Haley ha vinto le primarie repubblicane a Washington DC segnando il primo trionfo sul rivale Donald Trump nel percorso verso le presidenziali di novembre. L'ex governatrice della South Carolina si è aggiudicata ai 19 delegati dello Stato con il 62,8% delle preferenze. La vittoria di Haley nella capitale statunitense era attesa da molti analisti che consideravano la sfida la sua unica chance di battere l'ex presidente USA che finora ha stravinto ogni incontro elettorale. Attesa ora per il Super Tuesday del 5 marzo quando voteranno 16 stati. Nel suo discorso al congresso dei socialisti di sabato a Roma il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha detto che l'anima stessa dell'Europa è a rischio a causa dell'ascesa dell'estrema destra. Durante la campagna elettorale per le europee le voci del centro-sinistra continueranno ad accusare i conservatori di aver normalizzato l'estrema destra. Portatore di questo messaggio il candidato principale del PSE Nicola Schmidt che ha spiegato a Euronews qual è il suo manifesto politico. Dobbiamo avere un'Europa sociale dove tutti i cittadini si sentono non lasciati per l'interno. Stiamo a guardare i cittadini tutti i cittadini che potrebbero avere difficoltà nei tempi presenti. Propriano il potere ma anche le transizioni e i cambiamenti nella nostra economia non lasceranno per l'interno. L'attuale commissario europeo per il lavoro e i diritti sociali è in corsa per ottenere la presidenza da Ursula von der Leyen che correrà per un secondo mandato a nome del centro-destra. I sondaggi danno i socialisti in seconda posizione dietro al PPE. No che rispeita aos cargos de topo nas istituições da União Europeia o centro-esquerda teme agora o alto representante para a politica externa. Mas no prossimo mandato os socialistas deverão lutar para ter a presidencia do Conselho Europeu que riúne os líderes dos 27 países da União. Tra i líder socialisti il premier portoghese Antonio Costa e tra quelli indicati per ricoprire la carica di presidente del Consiglio. Presto lascerà il governo di Lisbona e ha detto che il suo futuro politico è aperto. Ma è ancora presto per decidere. Un debate tra le diferentes famiglie politiche sobre i lugares a prevenire, a distribuire, e come serão ocupados até lá se verão o que acontece. O motto do manifesto é l'Europa que vogliamo, social, democrática e sostenível. É necessária uma reforma do Green and Social Deal, ha dichiarado a Euronews a líder dos socialistas do Parlamento Europeu. É a nossa responsabilidade como europeus garantizar o planeta para as futuras generações e por isso hoje temos que poner em marcha umas políticas e umas medidas para lutar contra o cambio climático, mas fazer, além de uma forma em que a transição seja justa, que não paguem a factura do cambio climático os que mais o necessitam. I socialisti hanno anche promesso di continuare ad aiutare l'Ucraina, di promuovere la pace a Medio Oriente e di ottenere più budget per migliorare la difesa e la sicurezza dell'Unione, in futuro allargata a più paesi. Si sono aperte le urne per il voto anticipato in Portogallo dove il 10 marzo si tengono elezioni legislative 200 mila votanti per ora su oltre 10 milioni totali. I sondaggi danno un testa a testa tra il centro-sinistra guidato dal Partito Socialista e la coalizione di centro-destra di Alleanza Democratica. Il governo del socialista Antonio Costa è caduto lo scorso novembre dopo l'arresto per corruzione del suo capo di gabinetto. Il Portogallo celebra ad aprile 50 anni della rivoluzione dei Garofani e della fine della dittatura. Domenica si è svolta al Cairo una nuova tornata di colloqui per un cessato il fuoco nella striscia di Gaza di sei settimane. I mediatori in particolare gli statunitensi speravano fosse l'ultima dal momento che l'accordo era stato già più o meno accettato da Israele e mancava solo l'ok di Hamas ma una firma non sembra così vicina la delegazione palestinese non ha commentato la possibilità di raggiungere un accordo mentre Tel Aviv ha boicottato i colloqui perché Hamas avrebbe respinto la sua richiesta di un elenco completo degli ostaggi ancora vivi in particolare di quelli più vulnerabili e non avrebbe fornito l'elenco dei prigionieri palestinesi con cui vorrebbe effettuare lo scambio i mediatori egiziani hanno suggerito che alcune questioni potrebbero essere momentaneamente accantonate per raggiungere un accordo entro l'inizio del Ramadan il 10 marzo durante il suo discorso domenicale Papa Francesco ha incoraggiato i partecipanti a continuare negoziati al grido di per favore fermatevi nel frattempo il relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione Michael Fakri ha chiesto sanzioni contro Israele affermando che è l'unico modo per raggiungere un cessato del fuoco a Gaza nella striscia ha detto la carestia è già in corso Sabato sera la Caio Duilio della Marina Militare Italiana ha abbattuto un drone degli Yehuti utilizzando il suo cannone con caratteristiche simili a quelli già utilizzati in precedenti attacchi il drone si trovava a 6 km dalla nave italiana quando è stato abbattuto il ministro Crusetto ha parlato di una grave violazione del diritto internazionale e un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi preoccupa intanto l'affondamento della Rubimar che trasportava 21.000 tonnellate di fertilizzanti potrebbe causare danni ecologici al Mar Rosso e alle sue barriere coralline ha fatto sapere il centro di comando delle forze statunitensi la nave da carico è stata colpita da un missile sparato dai ribelli Quti il mese scorso ed è affondata sabato nel Mar Rosso si tratta della prima imbarcazione a essere completamente distrutta da parte dei ribelli dello Yemen è il quinto giorno consecutivo di protesta nella foresta di Grunheide alle porte di Berlino dalla serata di mercoledì scorso decine di attivisti hanno occupato una parte dell'area boschiva per protestare contro il piano di espansione dello stabilimento Tesla che prevede l'abbattimento di più di 100 ettari i manifestanti hanno anche costruito una dozzina di casse sugli alberi a diversi metri dal suolo per proteggere l'area la polizia ha stabilito che la protesta potrà continuare fino al 15 marzo ma si sta preparando anche a una mobilitazione di maggiore durata la Cina sta nuovamente tentando di negoziare dei colloqui tra Russia e Ucraina l'inviato speciale per gli affari euro asiatici Li Hui è arrivato a Mosca per discutere della crisi ucraina così viene chiamata la guerra in Cina dopo la tappa in Russia è atteso a Kiev intanto dopo la fuga di notizie sui missili da crociera Taurus la Germania ha accusato Putin di aver coreografato tutto per rafforzare l'idea che Berlino stia preparando la guerra contro la Russia di notizie la guerra contra Ria di notizie la guerra contro la Russia di notizie tu mi si ha